e non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto un creatore ed inserisci xyuderone dai e bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi cercare la lettera t della schermata di caricamento di questa settimana è l'ultimo obiettivo che dobbiamo fare per potercela portare a casa è veramente semplicissimo la troveremo esattamente qua nel ponte che si trova in coordinate di no c5 praticamente siamo sopra foresta frignante ed è esattamente il ponte che trovate di sopra io vi ringrazio tantissimo a parte gli snappi salve snappo per aver è là davanti per aver guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi siamo in live ciao ciao ciao